Attilio Urciuolo, e-commerce, the web design. Più denunce, tanto che lui era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso dell'ultima udienza, un testimone dell'accusa, evidentemente infastidito dalle domande incalzanti che gli venivano poste dall'avvocato Rolando Iorio, e soprattutto da quanto stava emergendo, si alzava d'improvviso e avvicinatosi al legale e al suo assistito, pronunciava nei confronti del primo inequivocabili minacce di morte, dicendogli ripetutamente ti sparo alla testa, mimando con la mano il gesto della pistola. Soltanto il pronto intervento dei carabinieri presenti in aule degli agenti della polizia penitenziaria riusciva a bloccare il tentativo di aggressione posto in essere dal test, che preso da un irrefrenabile attacco d'ida, pronunciava parole ingiuriose e minacciose anche nei confronti del magistrato, il quale si vedeva costretto a sospendere l'udienza. Impassibile il difensore dell'imputato, così come il giudice che con estrema calma e freddezza riusciva immediatamente a ristabilire l'ordine, pronunciando l'invio degli atti in procura per i reati commessi in aula dal testimone, nonché per il reato di oltraggio a magistrato in udienza.